In Molise l'AFA non dà tregua, Campobasso ancora a Bollino Rosso e le temperature resteranno oltre 35 gradi anche nelle prossime ore. Chi può scappa dalle città e se ne va verso il mare o la montagna. Le spiagge di Campomarino, Petacciato e Termoli, punteggiate da ombrelloni multicolori e bagnanti che cercano un refrigerio in acqua o sul bagnasciuga per sfuggire all'AFA. Così si presenta il lungomare domenicale di Termoli, auto in sosta ovunque sotto il sole. Situazione tranquilla sulla Bifernina che almeno nel weekend risparma i turisti e i bagnanti dalle code ai semafori che li affliggono per tutta la settimana. Ci troviamo sulla Bifernina, al primo semaforo che incrociano gli automobilisti venendo da Campobasso e andando a Termoli. Come vedete al posto dei semafori, il sabato e la domenica, ci sono gli operatori che bloccano la fila e poi fanno passare. Ed è una novità abbastanza gradita agli automobilisti perché si creano poche file in questo modo, anche se il povero operatore deve stare sotto al sole e fa veramente caldo. C'è poco traffico ma noi motociclisti siamo fortunati perché nonostante tutto possiamo correre e anche divertirci un po' mirando il panorama. Però voglio dire la situazione della Bifernina è drammatica per queste interruzioni continue, quindi speriamo che finiscono più presto questi lavori. Andate al mare? Sempre. Qui però dovete fermarvi? Sì, purtroppo sì. Ma andate al mare ogni settimana o è la prima volta? No, ogni fine settimana andiamo. Quindi vi tocca ogni settimana questa strada? Più meno, sì. Ci vuole pazienza? Ci vuole molta pazienza. Situazione tranquilla anche ai caselli dell'autostrada 14 in entrata e uscita, via vai di auto ma senza code né problemi particolari. Sulla strada insieme alle auto dei bagnanti e turisti, oltre agli operatori che regolano il traffico con le loro palette, forze dell'ordine al lavoro per i controlli di routine.